Ciao a tutti, oggi prepareremo la marmellata di mele. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono mele, zucchero, cannella in polvere e limone. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le mele che debbono essere con la buccia, lo zucchero, la cannella che è facoltativa e il succo di limone. Le facciamo frullare per 15 secondi a velocità 8. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Adesso la facciamo cuocere per 30 minuti. 100 gradi, velocità 2, con il cestello al posto del misurino. La marmellata è pronta, trasferiamola in dei vasetti di vetro sterilizzati, chiudiamoli e capovolgiamoli. E facciamoli raffreddare del tutto prima di rigirarli. Marmellata di mele. Si conserva in un luogo fresco e asciutto per sei mesi. Una volta aperto il barattolo, conservare in frigo. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.